Ed eccoci pronti per la quarta e ultima parte delle concept art del gioco di Batman Arkham Knight. Io ve ne ho dette 55, ma adesso vi dirò le ultime 5. Però state tutti attenti, e dopo mi ringraziate. Vi farò vedere l'incubo di Batman, ma è reale secondo voi. Se completate il gioco al 100% vedendo il vero finale, c'è Batman incubo, ma è reale secondo voi? Io non ho mai visto una cosa del genere, una cosa spaventosa. Poi abbiamo anche i giardini botanici, che Ivy prende il controllo. Capite ragazzi, Poison Ivy prende il controllo delle sue piante ai giardini botanici di Gotham City, che vi aiuta a sconfiggere la milizia. Però dovete fare molta attenzione e memorizzatevi questa frase delle piante. Crescono più in fretta del bambù, sta attento, non ti mollano più. Questi sono i dirigibili di Stegg, a tracco vicino alla Wayne Tower. Come vi ho detto prima, questa è un'immagine in bianco e nero, però questi dirigibili sono due. Sarà lì che troverete Simon Stegg. Poi c'è anche l'orfanotrofio Pinkney all'esterno. Qui dovete entrare e salvare Catwoman. E poi non è tutto, se avete risolto 243 enigmi, affronterete l'enigmista con il suo robot da combattimento gigante. Ora c'è da farvi vedere le piante di Ivy, lotta contro la tossina della paura. Avete visto? Queste piante di Ivy devono combattere, devono sbrigarsi. Non so se sono piante carnivore o piante normali. Sapete che Gabriosta non è mai stato un botanico. Io vi saluto, è tutto ragazzi. Ora mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate come sempre. Commentate sia nuovi che vecchi video. Ringraziate Gabriosta che vi ha fatto vedere le 60 concept art del gioco di Batman Arkham Knight. E ora, se volete essere tutti felici e contenti, celebrate tutti insieme con una standing ovation. E poi, Gabriosta vi ha sempre aiutato nei videogiochi. Sempre. E non vi lascia mai.